Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui in collaborazione con Sal Digital, un'azienda tedesca che praticamente stampa foto, fa foto quadri, foto quaderni. Ho già avuto a che fare con loro, l'altra volta mi mandarono un bellissimo fotolibro, adesso mi hanno mandato un foto quadro. Guardatelo. Ecco questo qua è il foto quadro, se riesco magari a metterlo in centro, perfetto. E come vedete è in realtà realizzato molto bene. È praticamente una tela stampata. Se guardate poi il retro praticamente è un quadro realizzato proprio in una maniera very incredible. Perché guardate un po', io sto guardando il cellulare per vedere se sono nel frame. Guardate un po' proprio dietro, realizzato in una cornice davvero molto spessa e resistente. Esiste la cornice bianca, come questa qua che ho preso io, oppure la cornice nera. Voglio farvi vedere proprio da un po' più vicino, se riesco, magari come è fatta la tela proprio. Comunque vi farò altre riprese più ravvicinate per farvi capire meglio la qualità del software per realizzare questi prodotti. È davvero molto semplice e intuitivo, addirittura poi ci sono dei sistemi per avere le immagini in automatico con dei temi e queste cose qui. Quindi è facile anche avere delle composizioni carine. Questo qua ovviamente ci ho messo soltanto una foto. Quindi come vedete praticamente è stata abbastanza semplice. Ho preso la foto, poi tramite il software ho impostato dove la foto doveva andare. In questo caso lui mi diceva che qua c'era il bordo della cornice e qua c'era poi il bordo, me lo segnava in rosso, dove andava messa la foto. Ho stampato questa foto, ricordo, del mio cane che mi piace perché sta bella felice sulla spiaggia. E niente, devo dire, è molto bello. I prezzi sono diciamo abbordabili. Questa qua 20x20, abbastanza grande. La cornice premium, la stampa premium, tutto premium. Viene a costare con la spedizione 48 euro. Però è un prodotto fatto veramente, come si dice, con precisione tedesca proprio realizzato. Bene, anche se durò la cornice, durò proprio di pino, non è un compensato, una cosa schifosa come possono fare altri siti che vanno a risparmiare. Questo è di qualità. Questo è legno, la tela è fatta bene. Questo durerà un sacco di tempo. Io vi consiglio di dare un'occhiata al loro sito e vedete un po' perché hanno tantissimi prodotti. Per esempio anche poster, cose del genere, costano in realtà pochissimo, tipo 6 euro per un poster, 5 euro per un poster. Io ho deciso di prendere questo perché era da tanto che volevo vedere un prodotto del genere. Devo dire che mi ha davvero, davvero colpito. Sono rimasto impressionato dalla qualità sia di stampa, perché questa qua, la stampa è fedele ai colori che sono andato poi io a ricreare nella foto. Cioè se la vedo al monitor del mio computer che è tarato, la vedo esattamente nella stessa maniera. La risoluzione è ottima, si vedono pure i granellini di sabbia. Per dire, voto, come direbbe Alessandro Borghese, 10. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!